il ruminante, mortadella, formaggio, sempre la dieta perfetta, smanicato, vai vai, mastica, mastica, lo sport preferito, il masticamento con doppio avvitamento e risucchiamento, guarda guarda sta di che se li mette, se li mette, se li mette perché ha bestemmiato a brinca, gli hanno ammazzato il tre, è vero, Cardinal Bertone sta, è stato, va via Federico, mi scherza perché ha detto una cosa importante, ha detto che se li mette, perché c'è la lanciata, vai via, gli eserciti ha detto poi adesso ha preso molto piede, perché i giovani, infatti, ma chi il è vero, va via Federico, guarda che è un bel cazzo forte, va via, mi scherza a me, vedi cazzo, ma tu sei come lui, vai via, vai via,